Essilonde offre una raccolta punti per tutti coloro che acquistano sul nostro sito. Questa raccolta è valida dal primo gennaio al 31 dicembre e prevede la generazione di un codice di un buono quando si raggiunge uno di questi tre obiettivi. 30 punti equivalgono a 30 euro, 50 punti 60 euro, 80 punti 100 euro. Questo cosa significa che avrete tempo fino al 31 dicembre 2023 per riscuotere il vostro codice del buono sconto relativo ai punti fedeltà. Una volta poi emesso questo avrà una validità di 30 giorni, gennaio 2024 compreso ovviamente. A partire poi dalla mezzanotte del primo gennaio 2024 i punti si azzereranno dando spazio quindi alla nuova raccolta. Per tutti coloro che però hanno bisogno di effettuare l'ultimo ordine per poter raggiungere uno dei tre obiettivi e quindi poi convertire i punti fedeltà in codice sconto è bene fare alcune precisazioni perché il 22 dicembre sarà l'ultimo giorno in cui gli ordini verranno evasi. Di fatto dal 23 dicembre al primo gennaio le spedizioni verranno sospese riprendendo quindi dal 2 gennaio in ordine di arrivo. È fondamentale quindi se dovete effettuare quest'ultimo ordine calcolare bene i tempi di evasione. Questo perché? Perché solo quando l'ordine viene di fatto evaso i punti vengono caricati sull'account e quindi è possibile poi convertire eventualmente i punti in buono. Facciamo quindi degli esempi pratici calcolando che il 22 dicembre sarà l'ultimo giorno in cui gli ordini verranno evasi. Per avere la certezza che il vostro ordine possa rientrare tra questi potete scegliere la speedy ed effettuare l'ordine completo di pagamento quindi anche eventualmente di ricevuta qualora aveste scelto il bonifico bancario entro le ore 12 del 22 dicembre. Se invece preferite optare per la scelta del corriere o il fermo point è necessario effettuare l'ordine almeno 48 ore prima del 22 dicembre. Se invece preferite optare per la standard in questo caso è necessario effettuare l'ordine almeno 72 ore prima del 22 dicembre. Di conseguenza tutti gli altri ordini che non rientreranno in queste tempistiche verranno evasi a partire dal 2 gennaio e dato che i punti vengono caricati nel momento in cui l'ordine viene evaso i punti generati faranno parte della nuova raccolta. Per ulteriori informazioni potete consultare il nostro sito. Mi raccomando occhio alle tempistiche.